PD e Movimento 5 Stelle tornano a chiedere lo spostamento dell'autorità portuale per l'Abruzzo da Ancona a Civitavecchia nell'ambito del corridoio Tirreno-Adriatico che consenta lo sviluppo dei porti abruzzesi. La discussione nell'ambito del Consiglio regionale straordinario richiesto per conoscere le iniziative della Regione per portare l'Abruzzo dentro la rete comunitaria TEN-T. L'inserimento nel corridoio trasversale è un fatto rilevantissimo, è la vera sfida per i prossimi decenni per investire e scommettere sul futuro della nostra terra, della nostra Regione ma a disposizione del spostamento delle merci su un grande territorio e un grande corridoio europeo direzione alla quale hanno fatto appello all'unanimità tutte le forze sociali in questa Regione 16 sigle tutte chiedono alle istituzioni e alla politica di andare verso questa direzione. Dipendere dal porto di Ancona e dall'autorità di Ancona ci fa essere i porti piccoli di Ancona mentre invece spostandoci sotto l'autorità di sistema portuale di Civitavecchia saremmo il porto di Civitavecchia sull'Adriatico quindi un unicum invece con Ancona siamo penalizzati ma la prova di questo è che tutti i finanziamenti e tutti i fondi che sono stati destinati fino ad oggi ai porti abruzzesi sono la minima parte degli ingenti fondi a disposizione dell'autorità di sistema portuale di Ancona. Forse chi adesso dice che c'è il rischio che l'autorità portale di Ancona non si interessi doveva pensarci prima quando i porti di Abruzzo e mi riferisco soprattutto ai porti nazionali sono stati completamente non inseriti nei finanziamenti nazionali e si è dovuto intervenire con fondi regionali. Mi sembra che sia stato lo stesso ministro 5 Stelle Barbara Lezzi a dire che un'eventuale rivisitazione dell'autorità portale di Ancona Civitavecchia avrebbe comportato ritardi nell'attuazione della ZES grazie alla ZES stiamo acquisendo finanziamenti per poter intervenire sulle infrastrutture dei porti di Vasto e Ortona e abbiamo già notizie dal ministero che ci sono interventi per circa 24-26 milioni di euro procedere immediatamente ad uno studio di fattibilità della terza corsia della 14. In apertura dei lavori il presidente della regione Abruzzo Marco Marsiglio e del Consiglio Lorenzo Sospiri hanno reso omaggio al lavoro e salutato il comandante regionale dei Carabinieri Carlo Cerrina trasferito a Roma per comandare le scuole di allievi di tutta Italia.